io ho gatto al sole guardate che bello mi piace tantissimo noi amore mia mentre si pulisce si gode il sole bravo ti piace il sole? brava andiamo andiamo amore dai che è quasi ora della mia pappa andiamo andiamo amore andiamo 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 brava 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 allora dopo aver preso il sole insieme al mio gatto ci siamo recati in un posto sopra qui a Benemellel zona di montagna e c'è una una mostra d'arte con tutti i quadri all'interno molto bella rappresentano tantissime cose e paesaggi o disegni astratti il mare come questo poi abbiamo ecco come questo qui ha una rappresentazione particolare per l'artista deve essere appunto qualcosa di personale ecco poi abbiamo Mina 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 che saluta caramente a tutti i miei fans ciao ciao Assalamualaikum Iyana Siamo arrivati a un po' qui Allora, non c'è un po' qui E' 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 un po' qui Qui abbiamo un bel paesaggio Qui abbiamo il mare Qui nel cielo Qui sembra del mare Acqua Azzurro Sole Terra Bello Un bel bosco Qui abbiamo sempre mare Cielo Montagne Disegni astratti Tutti fatti a mano naturalmente Questo è un bellissimo cavallo Questa è una signora che fuma Questa è un'altra signorina Fatta in una maniera particolare Sono belli Tutti belli Veramente belli Un signore Che vado sopra Ma non entro mai lì E' beh Capitato questa volta Siamo entrati Un altro cavallo Bellissimo Bellissimo La natura è perfetta Andate qua che bello Bellissimo cavallo Cavallo di Giacomo L'amore di Giacomo è cavallo Questo è un bellissimo gallo Sembra quasi fotografato Invece Questi colori li piacciono mangiarlo Ma non a vederlo Bellissimi uccelli E questi tanti altri bei quadretti piccolini Che rappresentano Con tutti belli Con tutti belli Siamo sopra il castello E qui nelle vicinanze appunto C'è il panorama Ed mandare su E inizio Ecco E vedi tutta la città Tutta la città Bellissima Abbiamo preso una spremota di ranchi lì Eh Per rinfrescarci naturalmente Ma c'è un po' freschino là Eh beh Bello bello Era tardi no? Sì Vabbè Ci sta Vi voglio salutare caramente Spero che vi sia piaciuto questo bellissimo video E Ciao 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 A tutti quanti Yalla Assalamualikum Slema Slema Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti